Questa mattina i carabinieri del Comando per la tutela del lavoro con il supporto dei comandi provinciali di Napoli e Caserta hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelarie emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della procura contro sette persone indiziate di caporalato. L'operazione, frutto di un'indagine contro il caporalato in agricoltura, è stata condotta nei comuni di Casa al Nuovo di Napoli, Pollena Trocchia, Villa Literno e presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano. Tre indagati sono stati posti in custodia cautelare in carcere, tre agli arresti domiciliari e uno all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, condotta da gennaio a giugno 2023 dai militari del reparto operativo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ha rivelato che gli indagati avrebbero reclutato e sfruttato oltre 60 lavoratori extracomunitari, molti senza permesso di soggiorno. Gli operai, pagati circa 1,82 euro all'ora, lavoravano tra le 11 e le 16 ore al giorno in condizioni di grave sfruttamento. I lavoratori venivano trasportati in veicoli fatiscenti, senza sedili adeguati e trataniche di benzina. Erano privi di servizi igienici, locali per il consumo dei pasti e dispositivi di protezione individuale, lavorando anche in condizioni meteo avverse con attrezzature inadatte. L'indagine ha inoltre permesso di sequestrare circa 200.000 euro da un'azienda agricola legata a due degli indagati. Le misure cautelari sono state eseguite per sei dei sette indagati, poiché uno risulta all'estero.